Eccoci qua, benvenuti, ben sintonizzati, eccoci con l'anteprima al programma Britpop and Showgates qui a GBJ Station. Buona domenica, primo marzo, abbiamo Phil and Chris, un duo che ben da 32 anni suonano insieme, cantano insieme, fanno della musica gospel, del folk, del Christian, insomma sono due persone a modo, veramente incredibile perché cantano nelle radio in versione live, ai matrimoni, nei memoriali, nelle parate, nelle chiese, nelle fiere, nei gruppi ministri viaggianti, è veramente una coppia fantastica, noi li ascoltiamo con questi brani molto delicati, sono onorato di portare a conoscenza Phil and Chris, arrivano da l'Occola Roma, a Stitch in Time. If a Stitch in Time Grazie a tutti 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 Buon domenica Grazie a tutti 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 The show Grazie a tutti 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 Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie 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 a tutti Partiti proprio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti